Siamo insieme al signor De Lucchi che insieme a tanti altri suoi compaesani è qui allo stadio Silvio Piola di Vercelli in occasione della partita Pro Vercelli Avellino Scopriamo chi sono Dunque noi veniamo da Riese Piorecino in provincia di Treviso e siamo i fans di Claudio Foscherini, allenatore da Pro Vercelli Il nostro club è nato nel 2011 quando Foscherini allenava in Cittadella abbiamo una settantina di soci e praticamente è nato per un gesto di amicizia con il mister visto che è il nostro coetaneo e il nostro compaesano Il club si è mosso oggi per dare una spinta in più al mister a portare questa squadra al risultato che tutti ci auspichiamo cioè la salvezza anche perché lui è uno specialista di queste cose Allora l'Unione fa la forza oggi non solo Vercellesi ma anche gli amici della provincia di Treviso insieme a noi a tiffare Forza Pro Vercelli e naturalmente Forza Claudio Foscherini Noi abbiamo portato questo striscione con scritto Magico Jack e ci hanno chiesto come mai Jack qui conoscono Jack Berretta ma la cosa è ben diversa Jack perché? Perché quando aveva 10-11 anni il papà gli ha chiesto di andare a prendere le sigarette in paese, loro abitano in periferia e lui piuttosto che prende la sua bicicletta ha preso l'auto del papà a sua insaputa e ha scorazzato per le vie del paese da quel momento siccome gli anni erano quelli dove Jack e Stuart padroneggiava in Formula 1 abbiamo soprannominato Jack e praticamente lo conoscono in tutto il paese in tutto l'ambito calcistico della Trevisana come Jack Foscherini Perfetto, noi ringraziamo gli amici della provincia di Treviso Perfetto, noi ringraziamo gli amici della provincia di Treviso